direttamente dalla storica sala dei monopoli di stato di piazza mastai in roma questa è l'estrazione di super enalotto buonasera e benvenuti all'appuntamento con l'estrazione del super enalotto oggi martedì 13 agosto il jackpot ha raggiunto la cifra di 61 milioni 172 mila 772 euro le 90 sfere numerate sono state caricate nella prima urna e con l'autorizzazione della commissione di controllo diamo ora il via all'estrazione del concorso numero 128 inizia il mescolamento automatico delle sfere stiamo per scoprire i sei numeri vincenti più il numero jolly tenete strette le vostre ricevute è in arrivo il primo numero il primo numero estratto è il numero 55 siamo al secondo numero con super enalotto si inizia già a vincere il secondo numero estratto è il numero 85 il terzo numero sta arrivando il terzo numero estratto è il numero 80 pronti per il quarto numero il quarto numero estratto è il numero 41 e adesso scopriamo il quinto numero che apre le porte alle grandi vincite il quinto numero estratto è il numero 65 è il momento di incrociare le dita stiamo per completare la sostina vincente il sesto numero estratto è il numero 43 dopo i sei numeri che assegnano il jackpot passiamo ora all'estrazione del numero jolly vi ricordo che indovinando questo numero insieme a cinque numeri della sostina vincente potrete realizzare la grande vincita del 5 più 1 il numero jolly di questa sera è il numero 76 controlliamo insieme la sostina vincente in ordine di estrazione ed il numero jolly 55 85 80 41 65 43 numero jolly 76 ed ora passiamo al numero superstar superstar è il numero che ciascuno di voi può scegliere o che viene assegnato casualmente al momento della giocata la sua estrazione avviene grazie a questa seconda urna elettronica caricata con le spere da 1 a 90 procediamo con l'ultima estrazione di questa sera vi ricordo che indovinando il numero superstar si vince sempre superstar moltiplica le vincite super in all'otto fino a 100 volte e premia anche lo 0 e l'1 le sfere stanno ruotando nell'urna pronti ed ecco il numero superstar è il numero 74 ricontrolliamo insieme tutti i numeri estratti del concorso numero 128 con la sostina vincente in ordine crescente 41 43 55 65 80 85 numero jolly 76 numero superstar 74 e l'estrazione di oggi martedì 13 agosto termina qui diamo il tempo di verificare tutte le giocate e ci rivediamo tra poco per scoprire se il jackpot di oltre 61 milioni 100 mila euro è stato centrato da qualche fortunato giocatore ben ritrovati poco fa abbiamo estratto i numeri vincenti del concorso numero 128 siete pronti a scoprire le vincite di questa sera questa estrazione del super nelotto assegna 297 mila 470 vincite vi ricordo che il jackpot in palio è di oltre 61 milioni 100 mila euro sarà stato centrato il 6? questa sera il 6 di super nelotto non è stato realizzato ed il jackpot cresce ancora per arrivare a 62 milioni di euro vediamo adesso nel dettaglio tutte le vincite e le relative quote nessun 6 e nessun 5 più 1 i 5 sono 3 e vincono 55.858 euro ciascuno i 4 sono 365 e vincono 473 euro ciascuno i 3 sono 15.270 e vincono 33 euro ciascuno i 2 sono 251.661 e vincono 6 euro ciascuno ed in questo concorso sono state assegnate ben 209.033 vincite immediate winbox scopriamo adesso insieme vincite e premi superstar nessun 5 stella e nessun 4 stella i 3 stella sono 51 e vincono 3.379 euro ciascuno 100 euro vanno ai 1.237 due stella 10 euro vanno agli 8.110 uno stella e 5 euro vanno ai 20.773 zero stella inoltre 95 vincite da 50 euro ciascuna e 14.371 vincite da 3 euro ciascuna sono assegnate alle combinazioni non vincenti vi ricordiamo che è possibile verificare l'esito delle proprie giocate in modo facile e veloce anche con l'app Super Enalotto Verifica Vincite l'app è disponibile per tutti gli smartphone per maggiori informazioni consultate il sito superenalotto.it io vi ringrazio per essere stati con noi Super Enalotto vi dà appuntamento a venerdì 16 agosto giocheremo per un JetFoodD 62 milioni di euro arrivederci Grazie per la visione! Grazie per la visione!